Eccoci in diretta, Gianluca Cifuni per Marte Sport Live, voce ai protagonisti, è andato via Mario Palligiano che salutiamo, indovina chi è arrivato, è arrivato Soriani, è arrivato Soriani, è arrivato Soriani, è arrivato Soriani con il suo Soriani Beach Tour che prende forma su tutte le spiagge della Campania, a cominciare da quelle di Varcaturo, Licola, insomma Capomiseno, è lì che Soriani farà ballare tutti i bagnanti a partire da maggio, e a partire da maggio ci sarà il Soriani Beach Tour, vi daremo dettagli ovviamente, nel frattempo Osimen che si è allenato solo in parte oggi all'inizio, poi ha avuto un problema e non si è più allenato, è tra i convocati e parte regolarmente per Barcellona e Napoli parterà nel primo pomeriggio per la Spagna, poi andrà in albergo, non diamo il nome dall'albergo però mi sembra di capire che sia sul lungomare di Barcellona, quindi con affaccio mare e poi alle 18.30 al Camp Nou ci sarà la conferenza stampa di Spalletti e di Fabian Ruiz che ha sfidato il Barcellona attraverso le sue dichiarazioni a un'intervista realizzata da Mirko Calemme, corrispondente del quotidiano spagnolo AS in Italia. Ci vogliamo vendicare della partita di due anni fa in Champions League, come ricorderete, l'1-1 a Napoli e poi la sconfitta ad agosto dopo il primo lockdown Covid, in pieno agosto al Camp Nou dove il Napoli aveva meritato molto di più. E poi Napoli merita lo scudetto, vedremo. Sentiamo questo messaggio vecale Whatsapp e poi tra poco andiamo da Enrico Fedele. Già Luca, ma che dici? Che c'entra? Negli altri stati fanno il tifo, è solo a Napoli che non fanno il tifo. Mi avevano chiesto dei gruppi organizzati, questo è un altro paio di mali. Avete fatto anche voi il male del Napoli. Certo, dubbiamente. Nessuno lo dice. Sempre colpa della carta stampata dei giornalisti. Un grande manager, ma ha una visione distorta e sbagliata del calcio. Un pallone a Napoli è finuto. I bilanci che stanno a posto non ci azzeccano niente. Perché una cosa è prendere partecipe del progetto, parte integrata del progetto, la piazza, è una cosa è tenere i bilanci a posto. L'una non è esclude l'altra. Quindi voglio dire, la gestione della rendita sotto questo punto di vista, che secondo me è il primario, è il più importante, è fallimentare. Il pallone a Napoli è fannuto. I ragazzi non suono vedere più a Napoli. Va bene, la domanda era sui gruppi organizzati e abbiamo risposto. Che poi ci sia un gelo o una freddezza da parte di un certo tipo di pubblico napoletano ai confronti del Napoli, questo è indubbio, nel senso che è certo. Lo abbiamo notato e non soltanto noi, lo hanno notato e ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi. E la genesi di questo gelo del tifo, non so quale sia. Tu parli, caro amico, del fatto che De Laurentiis non abbia coinvolto come parte integrante del progetto del Napoli la piazza per cui c'è stato un distacco da parte di qualcuno o più di qualcuno. Può darsi che sia questo. Adesso è il momento di Enrico Fedele. Fedele contro tutti. Il filo diretto con Enrico Fedele. Direttore, buongiorno. Buongiorno a voi. Lei ha notato un po' di gelo da parte della piazza. Questo amico diceva che il calcio a Napoli è finito perché De Laurentiis non ha mai reso partecipe la piazza del suo progetto. Ma guarda, De Laurentiis parla in un modo, però se devo essere un osservatore, diciamo così, e non essere tifuso, il Napoli ha speso i soldi. Non so se li ha spesi bene o li ha spesi male. Ma li ha spesi? Per i cartellini li ha spesi sicuramente. Eh, logico. Ottanta milioni, duecentaglie fa. Come spagio? No, no, ottanta milioni. No, veramente sono quasi cento più i settanta di Osimè, i centosettanta. No. Però... Cinquanta di Osimè, i centocinquanta. Lo Zano e Osimè. Lo Zano prima, poi sono arrivati... Quasi cento milioni. Lo Zano, poi ci sono i cento milioni di Petania, Politano, Lobot, Gademme e Rachmani. Quindi sono duecento milioni. Duecento milioni. Allora, i soldi li ha spesi o no? Li ha spesi, certo. Come li ha spesi? Beh, male no, non direi, dal punto di vista della qualità dei giocatori. Bene, ma ha speso tanto da migliorare la squadra in modo da pigliare dei giocatori pronti per vincere? Non tutti, ma qualcuno sì, visto che il Napoli è terzo in classifica, due punti dall'Inter. Ho capito, forse no, la mia domanda... Cioè, lei con duecento milioni avrebbe comprato altri giocatori? No, ma io ho detto, io potessi pure che ne compravi, io sbagliavo, come ho sbagliato pure io. Certo. Cioè, io ho preso un giocatore che si chiamava Marzio Borosso. Era forte Marzio Borosso. Un fenomeno... Dall'Udinese l'ha presa? ...e 60-70 miliardi. Dall'Udinese? Dall'Udinese. E praticamente fece poco. Però Udin era fortissimo, mi ricordo. Era Udin, ma noi avevamo migliori per fare un campionato. Mi capito? Allora, delle volte si pigliano dei giocatori per fare la differenza. Bastano due. Ma devono essere, si dice in dialetta, a carta situata. Cioè, significa, capito? A carta situata. Sentiamo se Ciro sa cosa significa a carta situata. Ciro al telefono, buongiorno. Salve, direttore. Pronto? Sì, pronto, sei in diretta, Ciro. Salve, direttore, buongiorno. Due domande. La prima, il Napoli dove si piazzerà? E la seconda, quella punizione di un astra all'ultimo secondo? È detta da Spalletti o dalla squadra? Grazie Ciro, grazie. Allora, la sfera di cristallo di Fedele. Cominciamo con la classifica. Dove arriverà il Napoli? A 13 giornate dalla fine. In Coppa. Cioè, secondo o terzo posto? Non mi interessa, pure il quarto, basta che va in Coppa. Ma è bene. Per la punizione di Onassi, invece, al 95esimo... Ma credo che quando a un certo punto la partita è finita, non c'è più quel furore agolistico, e allora sia stata fatta. Cioè, dopo il gol, il Napoli, l'allenatore, soprattutto ha capito che la squadra poteva andare in grande difficoltà. I giocatori hanno paura di perdere la partita e quindi poteva benissimo, a mio giudizio, però, per dare un colpo furbesco. Allora, ci saluta DJ Deddy, mi dice sei il numero uno, insieme a un collega di un'altra radio. Una domanda tecnica a te, Fedele. Io volentieri la, diciamo così, lascio a Fedele. A Barcellona come andrebbe a giocare, Fedele? Io giocherei 3-5-2, alto a sinistra Goulam, a destra Di Lorenzo, in mezzo Fabian, Anghissa e Demme, avanti Osimene e Mertens. Ovviamente dietro i soliti, la vostra per piacere. Allora, con che modulo si va a giocare a Barcellona? Ma io credo che lui non può assolutamente cambiare il modulo di giocare. Ti dico la mia, ne perderei di fisicità. Lei lo sa che, forse non le ho detto, forse non lo sa che Osimene, si è allenato solo all'inizio, ha avuto un fastidio, non si è più allenato, però è convocato e partirà per Barcellona. Però probabilmente andrà in panchina. Precauzione. A scopo precauzionale. Se non gioca lui, giocherà a Mertens. E a destra chi gioca? In alto, al posto di Politano e Lozano, che sono infortunati. Io vorrei giocare a Malquit. Malquit, davanti a Di Lorenzo. Ma in quel caso però la squadra potrebbe anche diventare un 3-5-2, volendo. No, perché un 3-5-2? Perché un 3-5-2? Un 4-4-2. Ma in grosso modo è così, diciamo che il terzo dell'attacco è un centrocampista. È un centrocampista, sì, che giocherà sulla linea dei centrocampisti. Ti dico la mia, penserei un momento a Demme, non so come sta. Per un modo semplice. Per dare un po' di dinamismo a questa squadra. Però ne perdi di fisicità. E poi Zielischi dove lo metti, direttore? Perché per gioco per forza Zielischi. No, se gioca... Non ci vuole che lo gioco Fabio Arunz. Eh ma lei però l'altro giorno disse che Zielischi non lo toglierebbe mai dalla squadra. Ma io sì. E poi ci ho detto. Devo togliere per forza Zielischi. Ci ho detto. Devo togliere per forza Zielischi. E chi toglie? A Fabio Arruiz. Ah Fabio Arruiz. A Fabio Arruiz. Anche in là sta volendo i due. Però ne perdi di fisicità. Ora siccome però il Barcellona è una squadra che vuole giocare e quindi si prende lo spazio per giocare e ti dà lo spazio per giocare. E forse ecco che anche Fabio Arruiz non essendo pressato potrebbe essere una carta importante per il gioco. Vincenzo al telefono. Buongiorno. Buongiorno. Chiamo da Cavalli Sireni. Volevo fare una domanda al dottor Fedele. Prego. Prego. Siamo qui per questo. Voglio dire riguardo la prestazione di Insigne che in queste ultime due o tre giornate non è diciamo non è al top perché io non penso che sia un fuoriclasse è un top player è un ottimo giocatore però che diciamo non è che fa la differenza ha fatto i suoi gol questo è un dato di fatto però volevo dire non si potrebbe giocare con un 4-4-2 con Simen e Mestens e Insigne si siede un poco vista le sue prestazioni utili. Questa è la mia domanda che volevo fare. Come? Non si può giocare? Come? Come no? Rieccoci in diretta è arrivato Soriani è arrivato Soriani il suo Soriani Beach Tour che prenderà forma e si materializzerà a maggio su tutte le spiagge della campagna arriverà fino al Cilento quindi molto bello deve far ballare migliaia e migliaia di bagnanti napoletani c'è anche Gigino con Soriani che lo accompagnerà nel Gigino Beach Tour numero 2 Junior chiamiamolo così va bene adesso andiamo nuovamente Enrico Fedele direttore Fedele contro tutti il filo diretto con Enrico Fedele ride Soriani ride direttore buongiorno lei non andrà a vedere nel Soriani Beach Tour sulle spiagge di tutta la campagna Soriani? dipende quale spiaggia ma verrà anche nella sua quindi lei dirà dove è lui organizzerà un Soriani Beach Tour con guest star Enrico Fedele quindi figuratevi va bene la coinvolgerà anche sul palco va bene caro direttore Napoli verso il Barça Osimè non si allena è il titolo del Corriere dello Sport anche qui non ha svolto la seduta con i compagni a scopo precauzionale per un sovraccarico al ginocchio destro che è generica come diciamo così valutazione e come diceva lei prima tendini muscolo o osseo non è dato di sapere non c'è dato di sapere c'è un messaggio per lei nel frattempo chiamiamole telefonate allo 081636363 eccolo qui una domanda per il dottor Fedele prego sicuramente lei conosce tutte le dinamiche del calciomercato probabilmente Insigne ha potuto firmare un contratto col quale il Toronto dice io gli do questi soldi se tu rimani giocatore integro e se poi subisci un infortunio questi soldi si cambiano oppure decate il contratto cosa mi dici grazie ma la visita medica la visita medica è condizionante per un tesseramento credo anche se c'è un contratto quindi sul contratto è già specificato precisato allora vieni presente che generalmente il contratto quando tu lo firmi questo è un preliminare che tu lo firmi presuppone che tu già abbia superato la visita medica in quel momento mi senti perché una volta c'erano dai 20 al mese di tempo per poter fare le visite mediche e poi tu non risultavi idoneo allora si andava al 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 centro medico nazionale dove si facevano gli ulteriori e certamente si dava la definitiva sentenza io credo che in questo caso pur avendo firmato un preliminare che ha tutti gli effetti di un contratto ma che lo poteva fare ci sia una clausola che è una clausola che praticamente potrebbe essere questo non lo so ma si potrebbe prevedere io società lo prevederei se il giocatore malauguratamente dovesse avere l'involtura un incidente di lavoro oppure in casa o in strada o dovesse avere una malattia che lo porta ad essere lontana dal campo per un certo periodo di tempo il contratto diventerà decade? si potrebbe essere allora direttore fedele lei ha sempre detto in attesa di andare da Emilio che è già al telefono che l'Europa League per lei è un accessorio è un dettaglio ininfluente non ho detto vabbè ha detto lasciamola perdere pensiamo al campionato lasciamo perdere se no la vinciamo cioè no no la Coppa UEFA o chiamala come la io la chiamo Coppa UEFA è la seconda Coppa e non bisogna sottoparlarla fai il Napoli non andrà lontano e beh se elimina il Barcellona non mi convince non mi convince ma pure se elimina il Barcellona ma secondo lei il Napoli come l'affronterà da questo punto di vista? come l'affronterà da molto motivato credo come una priorità comunque il suo bambino no no è una partita che dà lustro alla società soprattutto ai giocatori mi immagino Fabio e Luiz che dicono che per esempio lo vuole il Barcellona dovrebbe fare una gran partita no penso credo certo però il Napoli per me nel DNA dei giocatori non c'è quello spirito di combattente di vincere perché nessuno di loro ha mai vinto nulla allora la formazione di domani dovrebbe essere Meretti in porta che giocherà al posto di Ospina nell'alternanza insomma che ogni tanto Spalletti propone in difesa dovrebbe essere tutto invariato Di Lorenzo a destra Camani e Coulibaly centrali Mario Rui a sinistra a metà campo stante l'infortunio di Lobotka giocheranno Anghissà Fabian e Zielischi sotto punta a sinistra Insigne ci sono due dubbi Mertens più di Osimène al momento come punta centrale visto che Osimène ha avuto questo e poi O Elmas O Malquit a destra quest'amico scrive secondo me giocherà a Elmas perché Spalletti è innamorato di Elmas ci scrive Emilio al telefono buon pomeriggio buon pomeriggio forza Napoli vabbè io volevo fare una domanda al direttore ben o male forse Gian mi ha un po' disposto perché io cioè a questa Coppa EFA la chiamo ancora così ci terrei anche dai periodi di Benitez Calani che ci siamo andati molto vicini a parte che secondo il direttore forse non andremo non andremo a sperare di vincere vabbè ma questo turno lo possiamo passare grazie a scolto per la vita io sono sempre sincero a costa di farmi delle amicizie credo di no crede no va bene Mimmo Ascolese le scrive caro direttore con tutto il rispetto per le competenze del direttore Leao meglio di Osimè non si può sentire evidentemente fa un altro mestiere questa signora fa il tifoso perché Leao è migliore di Osimè superiore Osimè da che punto di vista da che punti di vista tutti forse solo in un allungo nella velocità nella progressione a livello tecnico e nello scatto mi sembra tanto Mappé questo ragazzo a proposito di Mbappé poi andiamo da un nostro amico da Venezia ma Mbappé ieri ha fatto delle cose spettacolari nel match tra Paris Saint Germain e Real Madrid e dovrebbe andare a Madrid voglio capire una cosa ma Mbappé ha preso lo scettro di Messi e Ronaldo finita l'epoca di Messi e Ronaldo è lui il giocatore migliore al mondo? beh vabbè oggi come oggi tecnicamente non come Messi da un punto di vista fisico e come vede l'appoggio da un punto di vista fisico della progressione su Ronaldo giovane forse anche leggermente migliore sul piano fisico dell'allungo sul piano del gol io credo che Ronaldo ha qualche cosa in più di tutti quanto gli altri cioè Ronaldo ha fatto gol in Italia ma è un fuoriclasse Mbappé Mbappé è un fuoriclasse è un fuoriclasse Fabio da Venezia Fabio buon pomeriggio Fabio che dire eccoci qui buongiorno Fabio adesso ti sentiamo buongiorno buongiorno a voi buongiorno al direttore se posso due domande veramente velocissime per il giusto per chiedere allora la prima mi chiedevo se le ottime prestazioni che sta mostrando la bottica possono poi ecco portare a viscio che Napoli punta di lui e non vada a riscattare Anghista o invece già non si punta totalmente al riscatto di Anghista o l'altra domanda era un'eventuale vendita di Fabio Ruiz se Napoli puntasse tutto su Luiz Alberto a quel punto se gli davo piacere al direttore Fabio grazie Luiz Alberto mi piace molto ma c'ha i diritti quindi è inutile parlarne per quanto riguarda l'altra domanda che mi hai fatto qual era la prima scusami Gianluca io stavo leggendo un messaggio quindi non c'è ancora il nostro amico mi pare di anguillarsi il rinnovo di Anghista il rinnovo il riscatto come no cioè Napoli dovrebbe farlo al più presto conviene farlo 15 milioni e passa la paura allora ciao Gianluca sono Gigi solo tu che sei giornalista e anche tifoso ed il direttore che è maestro di calcio mi potete delucidare da molti addetti e tifosi sento sussurrare che sarebbe meglio concentrarsi sul campionato il che mi fa pensare che domani si gioca allo stadio Carlo Stagno dal Contes di Barcellona Pozzo di Gotto provincia di Messina in Coppa Italia contro l'Igea Virtus possibile che siamo diventati così snob come tifosi? ma io credo che anche per i tifosi domani sia una gara di grande prestigio e di grande attesa dunque in questa vigilia chi l'ha detto che la snob non ha partito scusa io non so in base a quale criterio di valutazione molti giornalisti molti critici e molti che si rilettano a scrivere di calcio con uno capendo nel tranché dice che è più forte il Barcellona però dal punto di vista dell'organizzazione di gioco probabilmente in base a che cosa? l'organizzazione di gioco in questo momento è in fase di costruzione ma chi lo dice? cioè il Napoli che? ma il Napoli l'hanno visto il secondo tempo con l'Inter l'hanno visto il primo tempo a Venezia l'hanno visto contro la Salernitana allora Carlo scrive una società vincente fa una squadra vincente mai viceversa meditiamo e poi ancora Gino le chiede io voglio fare una domanda precisa precisa vorrei una risposta precisa per fare una squadra vincente che cosa bisogna avere? dei giocatori vincenti incendi ma bisogna avere più competenze o più soldi bisogna avere di giocatori per prenderli bisogna avere più competenze o più soldi bisogna pigliare la competenza e bisogna spendere i soldi allora i giocatori vincenti del Napoli chi sono? ce ne sono tanti e dimmi che cosa hanno vinto? e poter rispondere ah cosa hanno vinto? le dice storicamente i vincenti i vincenti sono chi vince chi fa secondo? chi ha vinto? chi ha vinto nel Napoli? sto cercando di trovarli nessuno Coulibaly in Africa Coppa Italia e Coulibaly il Senne col Senne che al Senne è nessuno insigne il campionato europeo con la nazionale italiana insigne di Lorenzo è che mi ha fatto cinque partite e mi ha fatto tre voti su Coppa di Cure è sempre una vittoria comunque è sempre una vittoria sono d'accordo e quindi sono pochi? non c'è nessuno eh? non c'è nessuno va bene va bene direttore Deo scrive contro il Barcellona spero di un risultato positivo forza Napoli vinci sempre il pareggio andrebbe bene domani mi sembra in vista della partita di ritorno mi sembra un risultato con Napoli anche perché da quest'anno non valgono i gol segnati in trasferta quindi anche un 1 a 1 sarebbe un risultato da scusatemi cioè se domani dovesse finire 0 a 0 e al Maradona 1 a 1 non ci sarebbe la valenza del gol in trasferta per cui insomma anche 1 a 0 si vai a supplementare si vai a supplementare sì perché i gol in trasferta non valgono più doppio a parità di gol realizzati nel doppio confronto da quest'anno allora direttore ah noi dobbiamo dare la linea very good sono già pronti i nostri amici però c'è un amico che le chiede Gino chi ha maggiore responsabilità sul gol di Zecco secondo lei contro l'Inter c'è un bel 30-40% di lui si sono fatti un rimballo maledetto che non guardava non è stato molto attento sulle gambe e il reattivo di Lorenzo credo e forse Ospina poteva leggerla un minuto prima fare un passo avanti forse beh sperare in un miracolo allora se vince a Barcellona e Napoli domani dovete avere il coraggio di chiamare fedele va bene come no e poi c'è questa domani sera no domani sera domani sera certamente dopo la partita e poi quest'amico dice com'è bello ascoltare il direttore che parla di calcio io pendo dalle sue labbra comunque Simeone ha preso solo una botta niente di che forza Napoli d'Antonio e ancora complimenti al direttore fedele adesso arriva Very Good salutiamo Luca Pocchione da Scafati che è un amico sicuramente di Gigino qua a Pizza Metro che sta accanto a Gigi Soriani che parteciperà lui è amico di amici di Scafati di Luca e del Pocchione anche anche del Pocchione va bene adesso arrivano due Luca Pocchioni e cioè gli amici di Very Good il disonestis e il de laurentis dei poveri per un grande pomeriggio su Radio Marte grazie a Mario Palligiano e Gigi Soriani in regia grazie a voi per la cortesia attenzione da Gianluca Gifuni è tutto stasera ci risentiamo alle 19 con Marte Sporlai tiro al bersaglio e la conferenza stampa di Luciano Spalletti e Fabian Ruiz dal Camp Nou di Barcellona alla vigilia di Barcellona-Napoli andata dei sedicesimi di finale di Europa League buon pomeriggio a tutti grazie a tutti